Tantissimi anni fa, infatti, ahimè, si cresce. Bene, il nostro DJ è pronto, lui arriva da Mussolini, ha 23 anni, se il nostro DJ è pronto, io me ne esco la frase che insomma anche stasera naturalmente utilizzerò tantissimo, caro Max, ti ricordi nel 2007 la utilizzavamo, play music, DJ play, è fantastica, guarda, uno speaker si riempie la bocca a dire queste cose. Io vorrei invitare anche le persone che se volete ballare, insomma, non me lo vieta nessuno, quindi se volete ora all'inizio del nostro secondo DJ, ballate, alzate le mani, tenete il tempo con la musica, insomma, divertitevi. Vi facciamo girare le luci e adesso creiamo l'effetto discoteca, facciamo così, va bene? Esatto. Ok, il nostro concorrente è pronto, è pronto, allora rifacciamo la ufficiale presentazione, il secondo partecipante del DJ Day arriva da Mussumeli, si chiama Antonio Viparo, nome d'arte DJ Viparo. Grazie a tutti. Oh poicina tant handsome! Oh poicina tant bonitina do pai! Oh poicina tant bonitina do pai! Oh poicina tant bonitina do pai! Grazie a tutti. 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 I nostri DJ che...